Due cittadini, uno 42enne di San Cesario e l'amico 36enne torinese, ieri sono stati improvvisamente catapultati nelle acque di Torre San Gennaro dopo il ribaltamento del catamarano su cui stavano navigando. Entrambi erano partiti dalla vicina Casalabate quando a un certo punto il forte vento di Scirocco ha avuto la meglio sulla conduzione del mezzo. Fortuna che alla scena abbiano assistito tre bagnanti, i quali sono riusciti a trarre in salvo i malcapitati non appena raggiunti con uno scafo a motore. Più avanti, sul luogo dell'incidente, anche una motovedetta della Guardia Costiera di Brindisi, assieme ad una motobarca dei Vigili del Fuoco per recuperare il catamarano e trasportarlo a riva. La cornice era quella di Palazzo Baronale a Monteroni di Lecce, la sala gremita in ogni ordine di posto, l'occasione della manifestazione e la presentazione dei risultati del corso di formazione professionale in operatore dei servizi di ristorazione. Alla presenza del sindaco Lino Guido, dell'assessore alla formazione professionale Donatella Gerardi, sono stati illustrati i risultati ottenuti dagli allievi che hanno svolto il percorso professionale. Faccio i miei più sentiti auguri di successo professionale e affermazione nella vita a voi ragazzi che avete frequentato il corso, ha affermato il primo cittadino Lino Guido nel corso del suo intervento. Mi auguro che la prossima volta che ci vedremo mi farete assaggiare le gustose pietanze preparate con le vostre mani, ha poi concluso, gli ha fatto ecco l'assessore alla formazione professionale Donatella Gerardi. Quello a cui l'ente di formazione del comune di Monteroni ha dato vita è stato un percorso formativo molto importante. Sono certa che grazie a questo corso sarete in grado di poter mettere in mostra le competenze acquisite e trovare quanto prima uno sbocco professionale. Ancora pochi giorni e la stagione 2014-2015 avrà ufficialmente inizio anche per il Lecce. A partire da sabato 19 luglio infatti i giallorossi svolgeranno il ritiro precampionato a San Venzano. Ieri intanto il responsabile dell'area tecnica Antonio Tesoro ha tracciato una linea programmatica riguardo al calciomercato. Prima bisogna confermare alcuni giocatori presenti in rosa, dopodiché si potrà pensare a degli innesti mirati. E a proposito di calciomercato, la società giallorossa mantiene sempre vivo l'interesse per l'attaccante brasiliano Gabionetta, cercato anche dalla Salernitana. Pare che l'ex crotone preferisca però giocare in Serie B già nella prossima stagione, dunque l'ipotesi di giocare al Via del Mare potrebbe gradualmente scemare col tempo.